Si ritorna in campo domani alle 15 il Gela sarà di scena a San Cataldo in un derby molto sentito. Biancazzurri e Verde Maranto fino ad ora hanno dato vita sempre due lì infuocati. La posta in palio è alta. I gelesi si presenteranno all'appuntamento forti della successo per 2-0 rimediato domenica scorsa in casa con l'isola Caporizzuto grazie alla doppietta di Giuliano Alma. La squadra di Marciano invece reduce dalla sconfitta subita in trasferta con la Cittanovese per 2-1. In classifica le due squadre sono separate soltanto da un punto, 15 il Gela, 14 la San Cataldese. La formazione di Pippo Romano però deve ancora recuperare la partita con la Vibonese che quasi sicuramente sarà giocata mercoledì 8 novembre. Intanto c'è da pensare alla sfida di domani, gara insidiosa. Una partita molto difficile, squadra che soprattutto tra le Muramiche è molto insidiosa. Ricordiamo che non meno di 15 giorni fa ha battuto la nocerina. Quindi sappiamo quanto è sentito questo derby, partita molto difficile. Però noi andremo lì con grande voglia, consapevoli delle nostre possibilità. È una partita difficile che va affrontata con il giusto piglio e la giusta determinazione. Gallon e Bonassini non sono disponibili perché pur essendo guariti devono ora riprendere la preparazione atletica. Quindi non saranno sicuramente disponibili. Recuperiamo invece il 99 De Luca, il tessino De Luca che sicuramente sarà con noi. Al Valentino Mazzola, come sempre, sarà presente una nutrita truppa di tifosi gelesi. La partita sarà diretta da Costin Spataru di Siena. I tifosi nostri sono la nostra arma in più, sono impareggiabili, sono presenti ovunque noi giochiamo, meritano grande rispetto. Noi ne siamo consapevoli e cercheremo con tutte le nostre forze di dare loro le giuste soddisfazioni e le giuste gioie.